Musica Violenza sessuale su figlia di 12 anni, arrestato a Ciro Marina. I carabinieri della compagnia di Ciro Marina hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della locale procura della Repubblica, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto indagato per il delitto di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia 12enne. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP, le indagini condotte nel mese di febbraio dai carabinieri della compagnia di Ciro Marina, mediante audizioni di persone informate sui fatti e perquisizioni informatiche, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza relativamente a sei episodi di violenza sessuale commessi tra il 2019 e il 2023. Da un 35enne di Ciro Marina, che con il pretesto di fare il solletico alla bambina avrebbe in realtà utilizzato i suoi piedi per provare piacere sessuale. Già i primi accertamenti, condotti subito dopo le dichiarazioni rese dalla minore, avevano consentito di far luce sulla dinamica dei vari episodi che avvenivano di notte, quando la mamma della bambina non era in casa o nel tardo pomeriggio. Ma le attività svolte successivamente e in maniera più approfondita ne hanno lasciato emergere le modalità e le fasi preparatorie. L'indagato, infatti, per come ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato solito entrare nella stanza dove si trovava la minore, spegnere la luce, abbassare le tapparelle e farla distendere sul letto a pancia in giù e con gli occhi chiusi. Così, con il pretesto del solletico ai piedi, si sarebbe svolta la pratica sessuale con la vittima, di soli sette anni all'epoca del primo episodio, ignara della reale consistenza del gesto. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri a carico dell'indagato è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Crotone, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il GIP, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura del soggetto per cui si sono aperte le porte del carcere di Crotone. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e all'esecuzione della misura cautelare seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti. Violenza e minacce all'ex compagna, un arresto a Isola Caporizzuto. I carabinieri della tenenza di Isola Caporizzuto hanno sottoposto agli arresti domiciliari disposti dal GIP del Tribunale di Crotone TG 56N. L'uomo residente a Isola di Caporizzuto avrebbe tenuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell'ex compagna, arrivando al punto di minacciarla. Rintracciato a Isola di Caporizzuto dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà ristretto in esecuzione della misura. Argusto dà di matto e frattura il naso a un operatore del 118 e quanto riporta la Gazzetta del Sud. I casi aumentano anche in Calabria e il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario fa registrare nuovi preoccupanti episodi. L'ultimo è avvenuto ai danni dei sanitari di una postazione del 118 giunti nel reparto di urgenza dell'ospedale di Soverato per curare traumi e contusioni riportate durante un intervento. Tutto è partito da una chiamata arrivata ad Argusto, piccolo borgo delle presse recatanzaresi, dove un uomo in stato confusionale aveva accusato dei malori causati probabilmente dall'elevato tasso alcolemico. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo si è però rinvigorito scagliandosi contro i sanitari, feriti al volto. Immediato l'intervento di una battuglia dei carabinieri che ha individuato l'uomo che non si è calmato neppure alla vista dei militari, agitandosi o opponendosi all'intervento mirato, a trattenere le sue ire. Tre i giorni di malattia inizialmente riconosciuti al personale del 118 costretto ad abbandonare il servizio per curare le ferite che hanno causato a uno di loro la rottura del setto nasale. Un episodio delle conseguenze contenute che riporta però attuale il tema connesso alla sicurezza del personale che opera in emergenza. I casi di violenza aumentano proprio ai danni dei medici e infermieri del 118 e di personale in servizio all'interno dei pronto soccorso della provincia. Complice una situazione esasperata in cui le misure di sicurezza soccombono a logiche economiche e in cui gli animi degli utenti sono messi a dura prova da un sistema di emergenza che ha ancora troppe pecche. I consiglieri del gruppo di minoranza per Serra Insieme, Biagio Figliucci e Vito Reggio intervengono in merito alla presa di posizione del primo cittadino Alfredo Barillari che a loro avviso sembra essersi svegliato dal lungo letargo sul tema della sanità. Più che tenere alta l'attenzione sul nosocomio, sostengono gli esponenti di opposizione, pare che Barillari stia cercando un po' di visibilità, stante il calo del gradimento tra la popolazione serrese e in particolare tra il suo elettorato. Non era forse stata la sua maggioranza, si domanda Figliucci e Reggio, a snobbare l'iniziativa del Comitato San Bruno, ritenendo inutile il ricorso al Tarra verso il DCA 198 del 2023? Forse dopo tanti proclami e passerelle ha trovato il tempo di leggerlo? Dove sono finite le promesse dei capi grandi politici regionali con tanto di selfie? Secondo Figliucci e Reggio è da considerarsi tardiva l'iniziativa di incontrare il generale Battistini, dopo oltre otto mesi dal suo insediamento. Come mai ha aspettato tutto questo tempo? Era il marzo 2022 quando la minoranza tutta richiedeva il primo dei tre consigli comunali aperti sul futuro dell'ospedale. I rappresentanti di minoranza rincarano la dose e affermano che invece di fare articoli con tanto di fotoricordo sarebbe opportuno che il sindaco prendesse contezza degli errori commessi, forse per la smagna di protagonismo che ha portato anche al dissolvimento dell'Associazione dei Sindaci del Comprensorio, costituita in una risposta alla costruzione del Comitato San Bruno, unica aggregazione che ad oggi ha dimostrato di avere interesse per la difesa del diritto alla salute. Il primo cittadino, aggiungono, crede di poter prendere in giro i serresi, i quali ricordano bene tutti i proclami sull'arrivo di medici e di attrezzature di cui si è intestato la paternità senza alcun merito. La conclusione è ulteriormente critica, stamattina è suonata l'ennesima sveglia e si accorge che il DCA198 sta proseguendo la sua linea distruttiva per la sanità del comprensorio e per le sorti del nostro ospedale. Solo oggi si accorge che oltre ai posti letto per acuti, al pronto soccorso, al definitivo passaggio d'ospedale territoriale, ci hanno tolto anche l'ambulanza medicalizzata. Ospedale San Bruno, Tassone, il sindaco si sveglia con anni di ritardo, la sua politica è stata miope e fallimentare. Rispetto a un tema così delicato come quello della sanità, bisognerebbe far fronte comune e battersi senza steccati politici per la difesa della comunità. Consapevole di ciò e in virtù dell'esperienza maturata da sindaco e da consigliere regionale di minoranza, che mi ha fatto toccare con mano i disegni trasversali di chiusura del nostro ospedale, avevo avvisato il sindaco Alfredo Barillari durante un consiglio comunale dei pericoli che alleggiavano sul San Bruno, evidenziando la necessità di una vigilanza attente e continua. Purtroppo il sindaco ha preferito non ascoltare, minimizzando le mie parole e scegliere una linea infruttuosa. L'esponente del PD Luigi Tassone chiarisce di non voler creare polemiche strumentali e di puntare alla tutela dei diritti della comunità, ma non dimentica che il primo cittadino ha ammiccato in questi anni con i dirigenti dell'ASP salvo destarsi solo ora rispetto ai problemi che attanagliano l'ospedale. Avevamo avvertito pubblicamente Barillari, insiste Tassone, sul concreto rischio di presa in giro, sull'esigenza di diffidare delle proposte di passerelle, di non prestare il fianco e sul bisogno di smascherare le volontà di ridimensionamento o chiusura. Il sindaco si è accorto solo ora di quello che era sotto gli occhi di tutti, suonando un allarme tardivo che ci lascia abbasiti. Ma finora dov'era o a cosa pensava? Il rappresentante di minoranza bolla come un clamoroso errore, il mancato ricorso al TAR e sostiene che al di là delle diversità di vedute, la battaglia del Comitato San Bruno andava appoggiata e anzi l'amministrazione comunale doveva farsi promotrice di iniziative e interventi. Per Tassone il sindaco non doveva accettare evanescenti interventi tampone che hanno solo gettato fumo negli occhi, ma doveva attivarsi tempestivamente facendo capire che il popolo delle Serre reagisce con determinazione di fronte a scippie e privazioni. Mi auguro, conclude Tassone, che il sindaco capisca che la sua azione politica è stata finora fallimentare, che occorrono scelte chiare senza timori reverenziali e che c'è bisogno di un suo rapido cambio di atteggiamento, non dettato dall'avvicinarsi delle scadenze elettorali. Controlli carabinieri nel Vibonese, sequestrata pistola e numerose munizioni, due denunce. I carabinieri della compagnia di Vibo Valencia, con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, nel corso delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti, con particolare riferimento alla materia della detenzione abusiva di armi e munizionamento, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valencia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, due uomini di 55 e 66 anni, ritenuti presunti responsabili della detenzione illegale di armi e munizioni occultate. I carabinieri hanno sequestrato una pistola revolver calibro 38 di provenienza estera e 28 relative munizioni, tutte occultate in un contenitore. Nello stesso contesto operativo è stato anche segnalato alle competenti autorità un Vibonese di 53 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di numerose violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura irrogata. Le attività di controllo in materia di armi assumono un ruolo fondamentale per prevenire la commissione di numerosi reati realizzati mediante l'utilizzo delle stesse, nonché per contrastare l'illecita circolazione di armi da fuoco. Viaggiava in auto con 500 grammi di cocaina, un arresto a Cosenza. Nell'ambito dell'intensificazione del controllo economico del territorio, disposto e coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, a contrasto dei traffici illeciti, i militari del gruppo Cosenza hanno arrestato una persona che trasportava cocaina. In particolare, una volta intimato l'alt ad un'auto nei pressi dello svincolo autostradale A2 di Cosenza Sud, i finanzieri hanno richiesto al soggetto dove fosse diretto e le motivazioni del viaggio, ricevendo risposte incerte ed evasive, denotando un atteggiamento fortemente sospetto. Pertanto gli operatori hanno sottoposto ad accurato controllo il veicolo, rinvenendovi mezzo chilo di sostanza stupefacente. I finanzieri quindi hanno provveduto a sequestrare la droga e l'automezzo, mentre il responsabile, su disposizione della locale autorità giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale Santo Cosmai di Cosenza. Una volta emesso nelle piazze di spazzo, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare al dettaglio ricavi per oltre 120 mila euro. L'attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Cosenza testimonia il costante impegno delle fiamme gialle nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con la finalità di tutelare la salute della comunità e minare una delle principali forme di finanziamento della criminalità organizzata nel territorio calabrese. Il responsabile da ritenersi comunque presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile in relazione agli elementi raccolti allo stato attuale del procedimento dovrà rispondere del reato di traffico di stupefacenti. Scoperto nascondiglio di droga nel centro storico di Roccella Ionica, arrestato 61enne. Una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della stazione di Roccella Ionica ha portato alla scoperta di un nascondiglio di droga in una casa nel cuore del centro storico del paese. Durante l'operazione i militari hanno individuato una cavità ricavata all'interno di un muro dell'abitazione di un uomo di 61 anni del luogo, nella quale erano occultate diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, bilancini per il peso della droga e una somma considerevole di denaro contante. Nel corso del controllo è stato anche notato che il contatore dell'energia elettrica era stato manomesso, accertando che l'abitazione era approvvigionata illecitamente di elettricità. Auto in fiamme su A2 a Pizzo, disagi. Auto in fiamme su A2 del Mediterraneo e in direzione nord nel territorio di Pizzo, secondo quanto si è appreso non ci sono feriti. Il conducente del veicolo coinvolto a cortesi del fumo fuoriuscire dal suo veicolo ha prontamente abbandonato il mezzo. Allertati i soccorsi sono giunti sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e personale ANAS per quanto di competenza. Fortunatamente solo qualche disagio per gli altri automobilisti, senza più gravi conseguenze. Mille persone a corteo antimafia in paese Boss Grande Aracri. Mille persone, secondo una stima delle forze dell'ordine, ad un corteo antimafia a Cutro, il centro della provincia di Crotone, in cui è nato e vissuto il boss dell'andrangheta Nicolino Grande Aracri, di 65 anni, che sta scontando una condanna definitiva all'ergastolo perché ha accusato di avere gestito attività criminali in tutta la Calabria e nel nord Italia, in particolare nella zona di Reggio Emilia. La manifestazione è stata promossa dal Comune e da alcune associazioni, in segno di solidarietà con gli imprenditori che di recente hanno denunciato i loro estorsori, facendoli arrestare. I commercianti hanno chiuso i loro negozi nel momento del passaggio del corteo ed ha fisso sulle saracinesche il cartello con lo slogan della manifestazione. Ndrangheta, Cutro è un'altra cosa. Lo stesso cartello è stato esposto dai manifestanti che aprivano il corteo. La gente vuole iniziare a liberarsi, ha detto un giovane imprenditore, Antonio Gaetano, che ha partecipato alla manifestazione. Questa gente, che ruba il nostro futuro chiedendo il pizzo, va schifata, ha detto il sindaco di Cutro, Antonio Geraso, in testa al corteo insieme agli altri primi cittadini e al presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari. La presenza di così tante persone, ha aggiunto Geraso, rappresenta un segnale di cambiamento importante. Una rivoluzione contro chi chiede mazzette, perfino ai piccoli imprenditori. Non si capisce quali operatori economici possono venire ad investire nel nostro territorio se non si smantella questo tessuto marcio. Stiamo sollecitando questo risveglio da sempre. Subito dopo la mia elezione ho detto che il comune di Cutro si sarebbe costituito parte civile in ogni processo contro l'Andrangheta, che riguarda il nostro centro. E così è stato fatto, perché Cutro non è Andrangheta, che non ha più casa qui. Ed oggi la mia gente ha dimostrato di non avere paura. Sono orgoglioso di essere il loro sindaco. 16 condanne in appello a Torino sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel nord-ovest. 16 condanne hanno chiuso oggi a Torino il processo d'appello per l'inchiesta Platinum sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel nord-ovest. La pena più alta, 19 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcere con una leggera riduzione rispetto alla sentenza di primo grado, è per l'imputato Sebastiano Giorgi. Si è trattato del troncone del procedimento discusso con il rito abbreviato. L'inchiesta Platinum, sfociata nel 2021 in una serie di arresti, si è concentrata sull'esistenza di un locale dell'Andrangheta nella zona di Volpiano a Torino. Il faro degli inquirenti è stato accesso su vicende di narcotraffico e, in particolare, l'importazione da Olanda, Belgio, Germania e Spagna di cocaina da smerciare in Sicilia e Sardegna e il riciclaggio dei proventi in attività commerciali e di ristorazione in Germania. Sottosegretario all'interno Vandaferro su operazione GDF nel porto di Gioia Tauro. È di straordinaria rilevanza l'operazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello Scico condotta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri e il supporto di Eurojust Europol e della direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, che ha consentito di arrestare tra gli altri due funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio nel porto di Gioia Tauro, che secondo le accuse sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, secondo gli inquirenti, i doganieri arrestati avrebbero alterato le ispezioni dei container per consentire l'uscita dal porto di tonnellate di cocaina provenienti dai narcos sudamericani e destinate alle cosche di Ndrangheta. L'operazione dimostra ancora una volta la determinazione dello Stato nel contrastare i fenomeni di connivenza e corruzione, che anche con il coinvolgimento di funzionari infedeli agevolano l'operato delle organizzazioni criminali. Il colpo inferto al sodalizio va nella direzione di liberare dagli interessi criminali il porto di Gioia Tauro, un'infrastruttura strategica per lo sviluppo della Calabria e dell'intero mezzogiorno. Un risultato frutto dell'impegno e della capacità di magistratura e forza dell'ordine che hanno il pieno supporto e incoraggiamento del governo Meloni affinché l'Ndrangheta abbia vita dura e abbia ben chiaro di non poter contare ancora a lungo su zone franche e complicità. E' quanto afferma il sottosegretario all'interno, Vandaferro. Altra demolizione a Caminia, il comune di Staletti approva la perizia sul fabbricato abusivo. Altra demolizione a Staletti, accedendo alla Cassa Depositi e Presti, il comune con la delibera 9 del 14 febbraio ha approvato la perizia per la demolizione di un fabbricato abusivo in località Caminia. Si tratta di una struttura di 160 metri quadri. L'intervento costerà 41.000 euro e tiene conto di tutti gli atti che precedentemente hanno definito la demolizione degli altri fabbricati. La direttiva dell'Ufficio Circondariale Marittimo, che certificava l'occupazione abusiva del demanio, l'ordinanza 113 del 2019 e le note dell'Agenzia del demanio. I fabbricati erano stati e sono oggetto di un'inchiesta giudiziaria avviata nel dicembre del 2020. In quell'occasione era stata riscontrata l'occupazione del demanio pubblico. Ed ora linea Lorena Pallotta con il suo ospite il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo. Durante la sua vittoria elettorale di settembre 2020 avrebbe teoricamente sancito il suo ultimo quinquennio al comune di Davoli quale sindaco. In realtà c'è qualche novità, ce la può dire? La novità è quella, noi ne avevamo parlato, se vi ricordate l'ultima intervista che abbiamo fatto, era la domanda ultima sul fatto del terzo mandato, della possibilità che ci fosse da parte del legislatore la volontà di mettere in campo il terzo mandato per i sindaci. È una riforma che viene in parte perché non è stata fatta per tutti. Quindi la norma prevede che i sindaci sotto i 5.000 abitanti che avevano il limite di tre mandati adesso sono senza limiti, quindi ognuno si può candidare per quanto tempo lo ritiene opportuno. Mentre la novità più sostanziale è per i comuni che vanno dai 5.000 ai 15.000 dove al secondo mandato i sindaci venivano stoppati. Oggi la novità è questa che è stato elevato a tre mandati in quella fascia di popolazione. Si sperava di averlo anche per i sindaci sopra i 15.000 abitanti. C'è ancora una discussione in Parlamento sull'approvazione di questo decreto dell'Election Day. Credo, al momento non credo che sarà facile far passare questa novità, però diciamo per quello che riguarda Davoli questa novità è intervenuta e poi vedremo il prosieguo di questa esperienza. Ma la domanda è d'obbligo. Posta la possibilità di candidarsi per la terza volta, avete già deciso qualcosa insieme ai suoi compagni di viaggio politici? No, noi ancora su questo non abbiamo discusso, non abbiamo parlato. È normale che il tutto deve nascere poi dalla volontà del gruppo di impegno comune a voler continuare con questa esperienza. e quindi è giusto che prima di annunciare io oggi non annuncio nessuna candidatura perché è giusto che prima ne parliamo tra di noi, valutiamo come organizzarci perché per me è stato sempre così fin dal lontano 2015 quando mi sono candidato la prima volta e in quell'esperienza voi sapete bene perché ci avete seguito su questa emittente tutto quello che è successo. Io più volte avevo rimesso da segretario politico all'epoca, avevo rimesso il mio mandato e quindi la mia possibilità di candidarmi a sindaco su altri amici, i quali poi chi per un motivo o chi per un altro non ha inteso proseguire o andare avanti in queste esperienze. Allora in quel contesto che si era creato di atriba tra la mia posizione e la posizione di Cosimo Femi allora io sono andato avanti e poi è arrivato il successo ed è arrivata questa esperienza ormai di otto anni di impegno comune che io ritengo per andare sui temi concreti che sia un'esperienza veramente qualificante per Davoli. Noi abbiamo messo tutto il nostro impegno, abbiamo messo dedizione, passione, l'amore per questo paese. I risultati sono arrivati, sono tanti, sono sotto gli occhi di tutti. Questo e tanto altro subito dopo il Tg. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Ponte sullo stretto, Procura di Roma, apre indagine dopo esposto. Un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato e indagati è stato aperto dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato dal deputato di AVS Angelo Bonelli, dalla segretaria del PD Elish Lane e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia. in relazione al progetto sul ponte dello stretto di Messina. La denuncia di nove pagine era stata depositata a Piazzale Clodio il 1 febbraio e riguarda l'attività di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Salvini, il PD mi ha denunciato, il ponte è un diritto. Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un ponte, un'autostrada, sulla TAV. Quello sullo stretto serve a unire milioni di siciliani, inquinare di meno, viaggiare più in fretta. Il PD ha fatto una denuncia alla Procura perché vogliamo fare il ponte, che è un diritto di milioni di italiani. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, intervenendo a mattino 5. La probabilità che si faccia il ponte sullo stretto da 0 a 100 è 100, ha detto il vicepremier. Sicurezza stradale, il gruppo 25 giugno non molla, in ritardo il secondo incontro sulla trasversale delle serre. Il gruppo 25 giugno vuole tenere accesi i fari in tema di sicurezza stradale e ricorda che in occasione della giornata di sensibilizzazione per le scuole organizzata dall'ANAS per lo scorso 28 dicembre c'eravamo appellati alle istituzioni presenti all'evento per avere dei chiarimenti sui futuri incontri nell'ambito del tavolo tecnico, istituito per tenere alta l'attenzione sul completamento e la messa in sicurezza della trasversale delle serre. I componenti del gruppo precisano che nei minuti di ascolto dedicati alla delegazione Giulia Dominelli, rappresentanza del gruppo, ha ribadito ai presenti al tavolo gli impegni presi nelle sedi antedecedenti, oltre che sollecitare nuovamente interventi immediati al fine di limitare il più possibile l'incidentalità nel tratto di strada in questione. Dopo aver prestato impeccabile ascolto alle nostre parole, rimarcano i giovani, il prefetto Giovanni Grieco ha rassicurato tutti sulla sua attenzione alle nostre istanze e ci ha indicato gennaio 2024 come mese utile per il secondo incontro, con la presenza del prefetto di Catanzaro Enrico Ricci e i sindaci dell'area del Catanzarese interessata dal tratto stradale. Pur non ritenendo inconcludenti le parole di vicinanza e di cordoglio del prefetto di Vibbo e senza la pretesa di stare perennemente in cima alla lista delle priorità di chi amministra il territorio, il gruppo fa notare che il secondo incontro è in assoluto ritardo rispetto all'agenda programmata e che ancora non c'è stato comunicato alcun progresso al riguardo né dagli amministratori locali, dei comuni oggetto del tavolo tecnico né dalle prefetture o dalle forze dell'ordine. I componenti puntano a capire non come individui associati ma in qualità di semplici cittadini in che modo le amministrazioni comunali abbiano lavorato nel frattempo e quali sono ad oggi i margini di miglioramento rispetto agli obiettivi prefissati e dopo aver ricordato alle istituzioni che sono responsabili delle nostre vite e del benessere del territorio invitano tutti a prestare vicinanza al nostro gruppo, a non abbassare l'attenzione sul tema fino a quando ne si sarà affermata una consapevolezza comune e diffusa sui rischi dei comportamenti tossici alla guida ed un rispetto concreto da parte delle istituzioni dei criteri essenziali di vivibilità sul territorio. Tre presidi dei sindacati sulla Statale 106 per la sicurezza della strada della morte Tre presidi lungo la Statale 106 per richiamare l'attenzione sulla sicurezza su quella che viene definita la strada della morte, il diritto alla mobilità e per connettere la Calabria ionica al paese con infrastrutture moderne e sostenibili. E l'iniziativa attuata da CGL, CISLE e WILD è svoltasi in contemporanea Bianco e Locri, Crozia e Torremelissa. A quest'ultima partecipate il segretario generale della CISLE, Calabria Tonino Russo, oltre a un centinaio di persone. Il traffico non è mai stato bloccato, la Statale 106 ha detto Russo è un'opera strategica se la completiamo, perché la strategicità sta proprio nell'ultimarla da Rossano a Reggio e se ha servizio di infrastrutture come l'aeroporto di Crotone e quando sarà il ponte sullo stretto. Se non si completa la 106 rischiamo di fare cattedrale nel deserto. È un'opera che adesso la stessa Europa riconosce nel tragitto di TNT e quindi va completata. Stamani abbiamo concentrato strategicamente le manifestazioni in quei lotti dove langue la progettazione o manca la copertura finanziaria, perché già dalla programmazione del prossimo documento di programmazione economica e finanziaria del governo si incominciano a destinare le ulteriori risorse che servono. Il segretario provinciale della UIL, Fabio Tomaino, sottolineato che quello che chiediamo è che si avvia un piano pluriannale nel quale tutti i governi annualmente si impegnino a finanziare nella legge di bilancio l'intero tratto. Il ponte dello stretto va bene, ma prima è bisogno di dare sicurezza e dignità ai territori calabresi. Per il sottosegretario generale della CGL, Area Vassa, Catanzaro, Grotone, Vibbo e Enzo Scalese vanno fatte tutte le procedure che servono per completare la 106. Il nostro ruolo è sensibilizzare soprattutto la regione, ANAS e governo affinché finanzino questi 15 miliardi che servono per completare la statale. Le situazioni che portano sviluppo e lavoro sono riconducibili soprattutto alle infrastrutture, perché altrimenti è inutile fare i megaprogetti. Alla manifestazione erano presenti i sindaci di Melissa, Rocca Bernarda, Santa Severina, Mesoraca, il vicepresidente della provincia e il segretario provinciale del PD. Montuoro, l'accordo per lo sviluppo e la coesione segna l'inizio di una nuova era per la Calabria. In un momento in cui le priorità della Calabria finalmente ricevono l'attenzione del governo centrale, si delineano prospettive di sviluppo promettenti per il futuro della nostra regione. La firma recente dell'accordo per lo sviluppo e la coesione a Gioia Tauro, tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto, rappresenta un segnale tangibile dell'impegno del governo nel promuovere il progresso del Sud e ridurre il divario socio-economico tra le varie aree del Paese. Il presidente della Commissione Consiliare, Bilanzo e Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero, Antonio Montuoro, sottolinea in una nota l'importanza dei fondi di sviluppo e coesione come strumento essenziale per contrastare la disparità territoriali e garantire l'uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini italiani. Grazie al lavoro messo in campo, spiega Montuoro, al decreto Sud e alla collaborazione con i presidenti delle regioni sotto la guida del ministro Fitto, il governo ha riorganizzato e istituito questi fondi, consentendo alle regioni di proporre strategie mirate alle proprie esigenze. Questo approccio ha inoltre evitato sovrapposizioni di finanziamenti e assicurato un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La Calabria, rimarca Montuoro, è stata la prima regione del mezzogiorno a sottoscrivere l'accordo che destinerà oltre 3 miliardi di euro e 317 progetti focalizzati su poche priorità chiave. Di questi, più di un miliardo di euro sarà destinato alle infrastrutture, compresi porti, trasporti pubblici e il ponte sullo stretto, al fine di garantire condizioni paritarie per tutte le regioni nel panorama competitivo nazionale. Un esempio emblematico, prosegue il presidente della Commissione consigliare al bilancio, è il porto di Gioia Tauro, già uno dei principali nel Mediterraneo e il nono porto europeo per il traffico merci, che beneficerà di investimenti mirati per migliorarne l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture circostanti, aumentando così la competitività della regione a livello internazionale. Oltre alle infrastrutture, il fondo di sviluppo e coesione si concentrerà su settori cruciali come il mare, i beni culturali, il turismo, la gestione dei rifiuti, promuovendo uno sviluppo sostenibile e valorizzando le ricchezze naturali e culturali della Calabria. L'accordo per lo sviluppo e la coesione, afferma con soddisfazione Montuoro, segna l'inizio di una nuova era per la Calabria con un forte impegno da parte del Governo per promuovere il progresso economico e sociale della regione e ridurre la disparità territoriali. Ho seguito tutto l'itere regionale del fondo sviluppo e coesione grazie al lavoro svolto all'interno della Commissione Bilancio e ciò mi consente di esprimere ancora maggiore compiacimento per il risultato ottenuto. Ogni passaggio fatto è stato il frutto di un lavoro attento e scrupoloso, svolto in sinergia dagli uffici, i dirigenti, l'assessore Princi, fino al Presidente Occhiuto, attraverso una cooperazione istituzionale che la nostra regione non ha mai avuto l'onore di vantare. È ora fondamentale tradurre questi fondi, conclude il consigliere Montuoro, in risultati tangibili che migliorano la vita dei cittadini calabresi e contribuiscono alla crescita complessiva del Paese. A livello regionale siamo pronti ad accogliere questa sfida e lavorare per ottenere risultati senza precedenti per la nostra terra. La Calabria è pronta a competere ad armi pari, credendo fermamente nel suo potenziale unico, caratterizzato dall'operosità, dal coraggio e dalla forza dei suoi cittadini, unito a un panorama paesaggistico senza uguali nel contesto italiano. Si apre così una nuova era per la Calabria, pronta a cogliere le opportunità che il futuro ha da offrire. Vanessa e Milania sono italiane, il benvenuto dell'Università delle Generazioni di Badolato. L'Università delle Generazioni di Badolato, presieduta dal giornalista Domenico Lanciano, dà il benvenuto nel popolo italiano a Vanessa Lanciano e alla figlia, Milania Scerri, che sono appena diventate ufficialmente cittadine italiane a tutti gli effetti e con relativo passaporto per essere eredi di nonni italiani emigrati in Australia a metà dello scorso ventesimo secolo. Vanessa ha rilasciato questa dichiarazione all'Università delle Generazioni. Il mio cuore è pieno di gioia, sono incredibilmente orgogliosa di essere cittadina italiana. La mia eredità ideale è ora riconosciuta anche formalmente. Sono entusiasta delle opportunità che questo passaporto offre, soprattutto a mia figlia Milania. Non ho dubbi, infatti, che condividerà la stessa passione che condividiamo noi, imparando a conoscere meglio le nostre radici e emergendosi nella cultura italiana e in tutto ciò che ha da offrire. Ricordiamo che l'italianità di mamma Vanessa si è espressa alla grande già nel giugno 2022, quando ha voluto chiamare Milania in onore della città di Milano, la sua primogenita, e ricevendo i saluti e i complimenti pure dal sindaco Beppe Sala. Fra non molto diventerà cittadino italiano pure papà Nick Sherry. Nell'occasione l'Università delle Generazioni dà il benvenuto e saluta tutte quelle persone che, specie se eredi di emigrati, sono diventate o diventeranno neo-italiane. Colori, musica e divertimento per il Carnevale di Centriche 2024. Tanti colori, musica, divertimento e partecipazione hanno animato il Carnevale di Centriche 2024, contraddistinto dalla sfilata di maschere e musica degli artistici carri allegorici del Carnevale di Squillace. Una gioiosa festa all'insegna della condivisione e partecipazione degli amici dei paesi limitrofi, tra cui Squillace, Palermiti e Olivadi. Il piccolo borgo di Centriche si è ancora una volta distinto per impegno, ospitalità e unione solidale che hanno permesso di creare ancora una volta momenti di condivisione e socialità che rappresentano l'unità, la voglia di fare, di animare e di stare insieme. Il Carnevale è proseguito fino a tardasera con la sagra delle penne e delle polpette tipiche di Carnevale, preparate dalle bravissime mani delle signore del luogo, con la degustazione delle tipiche chiacchiere, buon vino e per finire, a conclusione della serata, i fuochi d'artificio che hanno coronato una giornata ricca di allegria e spensieratezza per grandi e piccini. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano Questo è l'ombelico del mondo E' qui che si incontrano face strane di una bellezza un po' di salmanze, pelle di evano, di un padre indigene, occhi smeranzo come il diamante, falsi emetisce di raste nuove, come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo. E noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo Oh, l'ombelico del mondo Questo è l'ombelico del mondo Dove non si sa dove si va a finire E risalendo dentro sentesia La sorgente del respirare E' qui che si incontrano uomini nudi Con un bagaglio di fantasia Questo è l'ombelico del mondo Pensi che sale questa energia Questo è l'ombelico del mondo Oh, l'ombelico del mondo Questo è l'ombelico del mondo E' l'ombelico del mondo Come on, shake your body, baby Do that gong I know you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby Do that gong I know you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that gong The beat Grazie a tutti 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 Grazie a tutti